Però potrebbe essere arrivato per me il momento di spammare Potrebbe essere arrivato per me il momento di spammare su tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui Per fare una cosa non particolare di più Una cosa decisamente strana Infatti andremo a giocare con 5 MK7 E fino a qui nulla di strano Ma tutti mitici Tutti e 5 gli MK7 che andranno ad utilizzare tutti insieme nella stessa partita Cioè nel mio inventario ci saranno solo 5 MK7 mitici Quelli ovviamente di fondazione E saranno tutti nella stessa partita Non ho utilizzato glitch, non ho sfruttato bug, non ho fatto cose strane Semplicemente ho sfruttato insieme a Serena che è qui con noi e ci ha dato una mano per il video Salve La nuova meccanica della tenda Quindi semplicemente io ho sfruttato 3 slot della mia tenda 2 della tenda di Serena E ad ogni partita abbiamo riempito le nostre tende con l'MK7 mitico Vi dico solo che ci abbiamo messo un'ora e mezza Quindi se mi vorreste lasciare un bel mi piace Mi raccomando, lasciatecelo Prima di iniziare il video ovviamente vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT Tutto grande Tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite Fondamentale per supportarmi Quindi controllate sempre sul supporto a un creatore Ci sia scritto GGYT Tutto grande Tutto attaccato Perché ogni 2 settimane il codice scade dovete reinserirlo Grazie a vero di cuore a chi lo farà Detto questo regà Siamo col mio secondo account Perché finalmente ho ricominciato a livellare sul secondo account Per sbloccare la skin del riavvia un amico col primo Col principale Ribadisco che è stata un'impresa Vi faccio vedere le partite in cui abbiamo raccimolato i nostri fucili mitici E poi vi faccio vedere la partita che effettivamente è stata Quella definitiva con tutti e 5 i fucili mitici Vi dico solo che non è stato facile Detto questo ragazzi vi auguro una buona visione Eh il problema è che Fondazione potrebbe stare pure sulla spiaggia La tenda l'ho trovata Però puoi vedere che ora Fondazione sta sulla spiaggia? Ah eccolo amore C'è qualcuno che ci sta a combatte Oh no Oh no Hanno pure provato a sparare Ma guarda qui Hanno il cicchino infuocato Ma già ha laserato uno No sta qui Fondazione Sta qua dentro Spero non si ricarichi la vita Ah sono morti Eh proviamo Eh aspetta No passi Perché passi di chi? La voglio riposare No me la smontai No non la so proprio usare io la tenda Come faccio a smontare? Eh vabbè niente l'ho distrutta Porca miseria Non la so usare Ma perché non me la faceva smontare dopo che ci avevo dormito? Vabbè facciamoci fuori Fondazione Ok no Gli si è ricaricata la vita Oh mio dio Ok Allora E il primo è andato Il problema è che ora tocca trovare la tenda Dobbiamo trovare una tenda Eh io mi sembra che ne avessi visto una sui tetti Ma non mi ricordo su che tetto Beh rigiochiamola Eccola 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 la prima Allora 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 Io la metto tipo in sto cespuglio Sì Pando l'abbiamo trovata No non Ah non me la fa mettere dentro il cespuglio Vabbè Facciamo così Passi No e se mi sei buggata la tenda Gestisci spazio Equipaggio Ok Allora Io ci ho messo l'arma mitica Ok Quindi potenzialmente Se noi adesso lasciamo la partita E torniamo qui Io la ritrovo Teoria Ok O comunque quando vado a riposizionare La tenda Ok Quindi Detto questo Noi adesso ci buttiamo E facciamo la stessa cosa Ok Allora Possiamo andare per la seconda volta Su Fondazione 3 2 1 Vai amore Ok Ho devastato stavolta Eh sì amore Quando ho iniziato ad usare L'arma pure Tocca stare attenti Non solo al meteorite Ok Ok Madonna Madonna Non gli ho fatto più danno praticamente Pure lui stava ricaricando Ha fatto troppa tenerezza Mentre ricaricava Ok Allora 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 Ne abbiamo un altro Tenda No 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 Non riposa Non riposa Ci stanno a sparare Mannaggia la miseria Come faccio Come faccio Come faccio Come faccio Perché mi sei buggata Gestisci lo spazio No non questo Ok ce l'ho piazzata Se la distruggo è meglio Sì Mesade sì Io l'ho distrutta Abbiamo perso due fucili Mitici Non lo so Perché ho paura Che me la rivendichino Gli avversari Capito Ah io adesso mi faccio anche uccidere Non me ne frega niente Non me ne frega niente Tanto ormai appunto Ci potete uccidere Abbiamo fatto Io devo soltanto capire Se ho fatto bene o male Se abbiamo perso I fucili mitici Oppure se abbiamo fatto bene Perché se ci uccidevano Potevano rimendicare La nostra tenda Non so come funziona Perché le tende Devo ancora capirle bene Ragazzi ma dovremmo avere Due fucili mitici Nei vari accampamenti Vediamo un po' Eccolo 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 C'è pure un lama Ma del lama Non me ne frega niente Allora la tenda l'hai presa Perché così La devi Lo devi uccidere tu Cioè Lo devi prendere tu E lo devi mettere nella tenda tu Il fucile Vado eh 3 2 1 Via No come mi ha preso Ma che è andato In predict Ma mi stavo spostando Eh io so one shot Praticamente Madonna Vai vai che bianco Vai che bianco Ah però pure Tu sei bianchissima No non sitta Da solo eh No rip Eh stavolta Mi sa che ci fa Pochissima vita Ce la puoi fare Oh ma quando Me la ricarichi Sta mitraglietta Io e rip Sono morto Stavolta poi non abbiamo Beccato manco cure Che sfiga Ok 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 Non ho mazzo Vabbè prova a rianimarti Perché non lo posso mettere nella tenda ragazzi Perché nella tenda ce lo devi mettere serena stavolta Perché io sto appunto col secondo accanto Non ho abbastanza lingotti Per comprare il terzo slot E intanto quindi facciamogli riempire a lei Ah tieni l'assalto Vai metticelo Ok Allora Distruggiamo E adesso Ci facciamo uccidere dalla safe Tanto abbiamo poca vita E abbiamo Tre Fucili Mitici ragazzi Tre Siamo a tre signori Ok ragazzi Quarto Fucile Mitico Allora Abbiamo trovato di nuovo fondazione Ci siamo ore Sì 3 2 1 Vai Dove l'ha sparata Ma allora fa veramente il predict ragazzi Quando spara Cioè Fatalità Mentre ho saltato Ho sparato lì in alto Allora No 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 Ok Vai amore Perfetto Prendilo tu Lasciami i lingotti Lasciami i lingotti Non li prendere Ok Vai Piazzacelo L'hai piazzato? Mhm Ok Andiamo a distruggere la tenda E adesso però ragazzi Andremo a prendere anche il quinto Non le volevo lasciare Ah non le vuoi proprio lasciare? Vai non lasciamo nulla allora Non lasciamo nulla Noi adesso ovviamente Ci andiamo ad uccidere Non lasciamo nulla Vabbè gli sciglini purtroppo li dobbiamo lasciare E let's go Ok regà O la va O la spacca Amore 3 2 1 Vai No sei girato Ti ha fatto la finta Si No passi Passi dietro Perché mi sta segnalando Ah lo scagnozzo che si è triggerato È uno scagnozzo che si è triggerato Oh mio dio Quanto mi sta laserando Col suo cucile mitico Eh dobbiamo far fuori pure lo scagnozzo Allora Ok No dai ucciso allo scagnozzo no Ucciso allo scagnozzo no Dai Guarda guarda E mo qua Ah beh ok No stava a dire Mo lo devo riuscire tutto quanto Allora Fermi tutti Prima di tirare fuori tende e tutto quanto amore Curiamoci e vediamo se è una partita tranquilla Oddio Ok ragazzi potrebbe essere quella partita Potrebbe essere quella partita Io ho uno sciglino per te anche amore Dopodiché dobbiamo trovare una marea di cure Il problema è che non ho neanche colpi Ho sprecato tutti Eh Anche io non ce ne ho tantissimi Il problema è che io adesso dovrò giocare con diversi No Con diversi fucili d'assalto Io adesso per ora ancora non li prendo Dalla tenda Cerchiamo colpi d'assalto e cure Per capire ragazzi se fare il tutto in questa partita Oppure metterlo nella tenda Questo assalto E fare un'altra partita ancora Ok ragazzi abbiamo optato Per la seconda possibilità Allora Andiamo a comprare lo slot Ci vado a lasciare Non me l'ha lasciato? Sì me l'aveva lasciato ma l'ho ripreso No Non ci credo Non ci credo Mi ha fatto spendere i cento lingotti Mo non ce l'ho per Allora Spendili tu Metticelo tu nella tenda Non so se avete capito quello che è successo Cioè se lo compri una volta lo slot E poi lo togli ovviamente non puoi più riutilizzarlo Ma lo sapevo Però non mi aspettavo Che te lo lasciassi subito così Cioè l'ha lasciato così regà Mi ha scammato Non pensavo me lo lasciasse così immediatamente appena compravo lo slot Quindi io poi l'ho ripreso per sbaglio Va bene Ok Allora Adesso ci dobbiamo andare a fare un'altra partita Dove ci serve solamente la tenda E noi abbiamo Cinque Cinque MK mitici Nelle tende ragazzi Cinque ne abbiamo regà Cinque Allora Io ho passi qui ragazzi Però per adesso sembra una partita tranquilla E questi tipi sembrano abbastanza tranquilli Il problema è che mi servono colpi assalto Ho la tenda Quindi possiamo fare il fatto dei fucili mitici Però raga mi sono messo in testa Che devo avere almeno 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 Un 200 colpi assalto Cioè Un minimo li devo avere Tieni quelli che ho trovato io Ok tieni gli scildini Grazie amore Ok no in realtà si può fare Ne ho 147 Stanno saltellando qua fuori Sì stanno saltellando qui fuori purtroppo Ma io in realtà per adesso non voglio problemi Quindi per adesso non fetiamoli amore Stanno a distruggere qua sotto Sono entrati a casa nostra Sono entrati Rip Eh riusciamo a scappare secondo te Non l'ho ucciso Come l'ho ucciso? Ah sì sono tranquilli Ok Ok vabbè Spero di trovare altri avversari del genere Io vado amore Cioè c'hai altri colpi assalto per caso ad armi Prima di partire Perché non ho proprio l'assalto amore Quello era il massimo che ho trovato Ok allora Io piazzo la tenda Piazzo la tenda Gestisci lo spazio Me lo prendo Lascio questi Gestisci lo spazio Me lo prendo E ne ho due Allora amore Io adesso la tolgo E te la lascio Ovviamente E ovviamente mi tiri fuori i tre Vieni qui amore Sì è che stavo continuando a ludare C'ho paura che poi Mentre facciamo la casa della tenda Ci push e ci rubano tutti i mitici Vieni qui amore Perché c'ho l'ansia In questo Mi tremano le mani Come se mi stessi giocando Diecimila euro in una partita Fai conto di questo Ok Allora Aspetta no che persino Mi tolgo la roba dall'inventario Che non si sa mai Vai Ok Liberiamo lo slot Ok Vai Vieni Uno Io intanto mi libero delle cure Che dovrai portare tu Ok No questo è quello leggendario amore Amore ma che hai caricato Quello leggendario prima Sì hai caricato Quello leggendario prima Brigate Rimettine due dentro Amore Rimettine Rimettini dentro Dobbiamo andare a riprendere Mi ha caricato quello leggendario ragazzi Oh mitico Ce l'ha scritto Questo è leggendario Questo è quello leggendario Mannaggia la miseria Corri perché ce l'ho in mano E c'ho l'ansia Ok Dov'è Ok E niente Va bene Mo ci riproviamo Ottimo ma perché se non è passio Ne volta che la piazza Eh perché è buggata Ok Allora La distruggo Va bene E dobbiamo andarli E dobbiamo andarne a riprendere un'altra Ok raga È arrivato il momento Siamo già in 32 Quindi sarà una partita molto triste Perché praticamente Già Già un sacco di gente è morta Sostanzialmente Vieni amore Ti do Ti do la tenda Eh vabbè Vabbè Intanto Fammi prendere Gli assalti E poi Andiamo Finiamo di lootare Andiamo in safe E raga Ci siamo Ribadisco Siamo 32 Quindi verrà fuori un fight Mezzo fight Però Raga Ne è valsa la pena Abbiamo Abbiamo 5 armi mitiche in mano Ma soprattutto sono tutte La stessa arma L'MK7 Di fondazione Detto questo amore Possiamo andare a lootare Il cavo che avevi visto tu Raga Io vi lancio la sfida Vi lancio la sfida A 10.000 like Anzi forse un pochino troppo A 5.000 like Se si potrà fare la stessa cosa Ci proverò Anche con l'arma mitica Di Spider-Man Quando uscirà Perché dovrebbe poi uscire Anche proprio L'arma mitica Di Spider-Man Ovviamente ragazzi Le cure le porterà Serena Sostanzialmente C'hai almeno 2-3 cure 3 sceldone 6 sceldine Ok Se riesci Portati anche i 3 medikit Amore O altre sceldine No 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 I medikit Almeno abbiamo qualche cura di vita E sbrighiamoci Perché sta arrivando la safe E ragazzi Incredibile Ribadisco Raga Questo non è un glitch Non è un bug È il gioco Cioè solo che adesso C'è questa meccanica Delle tende E quindi sostanzialmente Quello che io ho appena fatto Si può fare Legit Cioè come vedete Io non ho usato Nessun bug Non ho utilizzato Nessun glitch Non ho fatto nulla Di tutto ciò Semplicemente Ho giocato Ho perso un'ora e mezza Della mia vita Insieme a Serena Per cercare di Recuperare Questi 5 Fucili mitici Dell'MK7 Di fondazione Cioè Ok Va bene Ce l'abbiamo fatta Ribadisco Raga No bug No glitch Tutto legit Tutto ok Soltanto un'ora e mezza Di tempo A cercare fondazione Detto questo ragazzi Sicuramente andrà a finire così Primo fight amore Becchiamo Mongral E ci distrugge Scontato ragazzi Scontato Andremo a beccare Qualche pro player Che tra l'altro Io vorrei vedere No sarebbe troppo bello Sentire la reaction Di quello che ci uccide Cioè quello che ci ucciderà Che si ritroverà Tutti questi fucili mitici No Ma che cosa può pensare Cioè per esempio Ecco raga Domanda Uccidete qualcuno Vi droppa 5 mk mitici Qual è la vostra reazione Sono curioso Esatto Sì io pure penserei subito Ad hacker A glitch A qualche bug Non lo so Scrivetemi sotto Nei commenti Quale sarebbe La vostra La vostra Reazione Sono curioso Sono curioso Di leggere Le vostre reazioni Tra l'altro amore Se trovi qualche colpo Assalto In giro Dato che io Ho solo questi Se vuoi Tu per caso hai colpi Mitraglietta invece Io ho colpi Mitraglietta Sì ne ho 54 Se ti interessano Facciamo il cambio Ok Te li lascio Ho comprato le curabombe Quelli al peperoncino Dal taco Ah ok Va bene Va bene Faccio il cambio Va bene Ci sta Ok ragazzi Perché ovviamente Raga io Sparo 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 Switch Sparo 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 switch Quindi avrò bisogno Di molti colpi Del fucile assalto E detto questo amore Che ci rimane da fare Vediamo se troviamo Al che avversario Vediamo un po' Quello che succede Ecco amore Passi di qua Passi? Sì Oh no 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 Che poi tra l'altro Era dove ero io Lì solo soletto Oddio Mamma mia Vabbè raga Ovviamente stiamo parlando Dell'arma più forte Della storia di fortnite Perché è devastante L'ho laserato Abbastanza Amore se c'hai colpi Assalto Sì Thank you so much E ci siamo fatti Una bella rifullata Vai no Io più che altro Eh amore Io non lo posso portare Eh c'ho la cura bomba Scildone Scildene Quindi rimane qua Eh sì rimane qua Eh purtroppo Dove vanno così E regà Io la cosa che vorrei provare È spammarlo su qualcuno Cioè spammare Questa armata di fucile Assalto Su qualcuno Cioè veramente Sarebbe il mio sogno Non lo so In questo momento Sarebbe veramente il mio sogno Spammare tutta sta roba Addosso a qualcuno Allora lì possiamo Ammirare Dei ragazzetti che sono palesemente Tutti i più forti di Mongral Ci distruggeranno C'è anche un corvo viola qui E però potrebbe essere arrivato Per me il momento Di spammare Potrebbe essere arrivato Per me il momento Di spammare su tutti Oddio un altro Oh mio dio No un altro One shot Non ho lasciato Eh quello in acqua Te ne sta andando Eh sì Sta scappando Uh rotto shield Se no qualcuno Ancora un po' carico Oddio 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 One shotissimo amore One shotissimo Ok mi hanno dato uno Killato Signormente era uno di quelli Che avevo atterrato Tra i compagni di questi qua Mi ricarico un po' Tutti gli assalti Eh c'è uno qua Camperato Eh sì E l'avevo laserato Anche quello eh Cioè oddio laserato Mi sa gli avevo tolto 25 shield Puoi provare? Eh sì Ora ci proviamo Occhio amore Ce l'ha anche lui Uno spammone Vabbè ma tutti ormai No mi ha preso col cecchino Amore 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 Dobbiamo curarci No no da dietro No 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 Non posso curarmi amore Vieni 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 please Vai vai si cura la vita Con questi Poi lascia un po' di shieldini Oh mio dio regà Lo sapevo che tanto Finivamo nel panino Di qualcuno Mannaggia la misere Ragazzi Oddio regà Mamma mia Il cuore in gola Per un attimo ho sentito Oh perché non mi fa lo shieldone Più che altro regà Anche se ce n'hai cinque Puoi ricaricare i cinque armi Così non è facile Cioè ok no Mo le ho ricaricati quasi tutti C'era qualche colpo assalto Tu che hai lootato un pochino No Niente? No Porca miseria E niente regà Ricominciamo Sperando stavolta Da un pochino meglio Ecco ecco ce n'è C'è uno qui C'è uno qui Non so se è da solo C'è il compagno No la safe C'è qualcuno con la puni via Non so se sia il compagno Potrebbe essere Io son salito amore Sali se riesci Salendo Salendo ma c'ho lui accanto Eh si Non sto capendo dove sia Però No da dietro pure No eh vabbè Non riesco Ad elitare regà Oddio gli ho rotto lo shield Eh vabbè Un'altra ancora Eh amore Vi ha dato fuoco a tutto Scendi Eh l'ho visto E bianco one shot Quello che va dato fuoco Ma Ma quanta gente c'è Amore Rimettiamoci un attino vicini Perché Sono due team Sono tutti qui Allora aspetta aspetta amore Scappiamo Dove sei? Sotto di te Vieni qui Vieni qui Metto la jump Andiamocene un attimo Perché siamo gli ultimi Siamo gli ultimi team Conviene che me ne vado così ormai Perché sono in mezzo io Se mi scopro mi laserano Allora Io qua c'ho degli shieldini Ma è l'unica cura che non mi serviva Eh l'hanno presa anche loro La jump 2 Ok Va bene Va bene Va bene Orca miseria Mi apro sta chest Medikit Col cavolo Oh mio dio Regà è veramente difficile Giocare un solo coce di assalto Ve lo posso garantire Perché alcune meccaniche Perché io gioco come se tipo Avessi il pump Ma non posso giocare come se avessi il pump Maledizione Ah sono tutti carichi Sì Però io sto anche Non dico per finire i colpi Ma quasi Eh laggiù c'è un altro shieldone Eh laggiù c'è un altro shieldone Oddio No 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 Eh io su La mitraglietta Non li prendo da lontano Ma è quello di prima Quello che ho distrutto prima Mi sta ridistruggendo Ma porca miseria Regà Ma quanta vita c'ha pure quello lì Mica c'ha Serena l'ambulanza Mannaggia Il problema è che a me Servirebbe un assalto Eh Una l'ho craccato Eh ma pare che non si vogliono fermare pure se li cracchiamo Ok l'ho ricraccato Atterrato Eh ma pure quello tecnico non dovrebbe star messo benissimo Ma da dove Eccolo 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 Eh pure uno da lontano mi ha sparato Aspetta devo ricaricare Eh devo ricaricare Mannaggia Eh uno dall'alto Eh sì no no amore copriti Copriti se riesci Ce l'hai qualche altra cura L'unitimo shieldino Volevo andare a lutare quello che ho atterrato prima Ma mi sparano dall'alto Ma dall'alto dove sono però Eccoli No dietro 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 Ok No no chi amore non ci concentriamo troppo Eh l'altro ha preso l'altezza Eh lo volevo finire per prendere No ho finito i mazzi Ho finito i mazzi Eh niente è finita È finita Aspetta vedo se riesco a prenderli da questo qui Un pochino Eh ce l'aveva Oh ma quello non si vuole proprio arrendere No Gli ho rotto lo shield per la ventesima volta Ok almeno però fa scendere la tua roba Siamo rimasti in tre Questo qui E un altro Ma vuole scendere Invece c'è un band Eh lo so amore ma non ce la faccio Eh penso che se ti scopri ti vuoi Ti devo andare Godo Godo Mori porazzati C'aveva Non me lo piazza No perché c'ho lo jump C'ho No ma mi ha cambiato l'assalto Eh vabbè niente regà Me la devo finire con questo assalto qui Eh con due di vita Con questo assalto qui C'avevo la jump C'avevo purtroppo No regà con due di vita Non mi posso far rittare Nemmeno dalla safe Eh amico mio No Mannaggia Ha preso danno da caduta lui Non capisco se si stia curando Oh mio dio Che mi ruote pure che ho cambiato l'assalto Regà Eh sono morto Eh vabbè niente Non avevo 42 di vita No io lo vedo con 61 No tu mi sai Vedi quello di prima Questo c'ha 61 e 81 Sì no non ce l'avevo mai fatto Rip Eh perché effettivamente vedi che però ha preso un sacco di danno da caduta Non ci posso credere regà Ma mi bastava Dopo che ho laserato il penultimo Mi bastavano due secondi per farmi shieldini e bende E ce l'avrei fatta Perché uno contro uno Se gli spammavo tutto quello che avevo Era finita Niente regà Peccato che è finita così Però quella maledettissima skin di Natale Non voleva morire Penso che gli avrò fatto un danno pari a 4-500 Si ricurava sempre Comunque Giocare senza cure E giocare senza pump È una cosa bruttissima Non lo rifarò mai più Anche giocare senza assalto Perché è troppo brutto ragazzi E anzi Cioè se vincevamo qui Facevamo Veramente la L'impresa Niente regà Però vi ricordo 5-500 like Ci proveremo anche con quelli di Spider-Man Anche se lì Però averne più di uno Magari ce li dividiamo Magari faremo una squad Non so In quattro Tutti col potere di Superman Spider-Man Spider-Man Vi ricordo Il codice creatore GGYT Tutto grande Tutto attaccato al negozio oggetti di Fortnite Fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale Se ancora questo è fatto Lasciando un bel mi piace Per noi è tutto Ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale Ciao ragazzi Ciao